In realtà non è vera alternanza, come molti quotidiani possono intitolare in qualche caso, ma è continuità. Perché io vorrei riflettere insieme a voi in questi dieci minuti che gentilmente mi sono stati concessi su di un punto che si allaccia direttamente alla relazione del professore Ettore Gotti Tedeschi. Cioè le tre anime dell'uomo economico e le molte altre anime dell'uomo trovano un punto di riassunto, un cardine di attualizzazione nell'istituto della famiglia. Difatti io mi propongo in questi pochi minuti di rispondere in qualche modo o di riflettere insieme a tre domande. La prima è la famiglia è un soggetto pubblico o privato? Cioè noi possiamo parlare della famiglia come un soggetto politico istituzionale con un valore sociale? Cioè della famiglia come un bene pubblico? E se la risposta è sì, la buona politica sta difendendo o sta cercando di difendere questo istituto virtuoso della famiglia tradizionale? E se la risposta è no, perché la cattiva politica attacca così tanto, con tanta radicalità, l'istituto della famiglia tradizionale, ripeto, in senso civile? Non voglio indurre equivoci di bigottismo. Il sacramento del matrimonio ve ne parlerà qualcun altro, non credo oggi, per vostra fortuna di sicuro non io. Io parlo della famiglia come soggetto civile istituzionale. E allora chiediamoci cos'è dal punto di vista civile istituzionale questa famiglia. La famiglia è il luogo primario in cui l'uomo, l'individuo, la donna, il soggetto sviluppa un concetto fondamentale per la sua vita privata e pubblica, cioè anche per la politica, sviluppa il concetto di legame. Nella famiglia noi impariamo e insegniamo il concetto di legame e come l'abbiamo imparato o insegnato in famiglia lo applichiamo poi per la strada, pagando le tasse, lavorando, non lavorando, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è il luogo primo di formazione di questo concetto. È il luogo della composizione delle differenze, come si dice molto spesso oggi. Differenze fra i sessi, ovviamente a patto che i sessi siano differenti. Differenze, composizione delle differenze fra generazioni, a patto che ciascuna generazione faccia il suo ruolo, i figli, i figli, i padri, i padri, i nonni, i nonni. È il luogo di formazione e trasmissione dell'identità. In famiglia noi impariamo quella lingua che giustamente nel linguaggio comune definiamo madre. Il modo di vestirci, di salutarci, di mangiare, di essere puntuali agli appuntamenti, di andare in giro per la strada. Quelle cose che ci connotano come popolo da amministrare poi politicamente come comunità e come identità. Nella famiglia, la famiglia è il luogo primo di desiderio di formazione di una sana ricchezza. Se non fosse sufficiente, e lo è certamente quello che ci ha appena detto il professore Ettore Gotti Tedeschi, cioè la prospettiva concreta di una vita comune attualizza il bisogno che questa vita comune sia la migliore possibile. E allora spinge il lavoro, spinge il risparmio, spinge il consumo, perché poi la casa più bella, le macchine, perché una, non due, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non solo. La famiglia è un'altra grandezza economica. È il luogo in cui questa sana ricchezza accumulata nel lavoro e nel risparmio viene trasmessa attraverso le generazioni. La famiglia diventa un'entità economica di portata strategica perché la sua persistenza economica supera il ciclo e l'aspettativa di vita dei loro singoli individui, cioè nelle imprese di domani investiranno i miei eredi, sperando che abbiano qualcosa avanzato da ereditare. E quella sarà la linfa economica della nazione attuale e futura. La famiglia è la prima istanza di sicurezza sociale. Noi quando andiamo in giro non siamo tanto preoccupati che qualcuno ci aggredisca se siamo soli. Ma se siamo con la famiglia sì. Vogliamo sperare, abbiamo, chiediamo e pratichiamo sicurezza e legalità perché speriamo che i nostri figli possano andare e venire da scuola da soli con i loro amici senza essere aggrediti o malversati. La famiglia questo è anche molto altro. Però riassuntivamente passiamo alla nostra seconda domanda. Perché la buona politica deve difendere questo tipo di famiglia. Perché in estrema sintesi quanto abbiamo detto finora è che la famiglia è la potenziale migliore fucina di formazione del cittadino in qualunque nazione. La famiglia potenzialmente destinata e naturalmente destinata a formare buoni cittadini. Non succede sempre. Lo so anch'io che le famiglie cadono, sbagliano, a volte da fonte di bene si trasformano in fonte di dorola e in taluni estreme conseguenze si trasformano in fonte di male, di violenza, di cattiveria. Non sfugo il tema. Anzi ne faccio una delle chiavi interpretative del mio percorso della famiglia verso la politica. Non per fare polemica contro il voyeurismo giornalistico imperante per cui milioni di famiglie normali non fanno notizia e le famiglie degenerate ne diventano le proprietarie assolute del palcoscenico e del panorama. Ma è un discorso politico perché questa cronaca malata diventa cultura dominante e la cultura dominante attraverso la politica diventa poi norma e legge. Non è un caso se sia a livello nazionale che a livello europeo, sovranazionale, internazionale, tutti gli ultimi provvedimenti legislativi relativi alla famiglia sono volti a regolamentare quando non a facilitare, ad incoraggiare il momento di disfacimento della famiglia, il momento di percezione della famiglia come luogo di rapporti malati e non come luogo di legami sani come abbiamo detto prima. Questo perché la cronaca diventa cultura, la cultura diventa politica, la politica spesso diventa legge. Mentre invece di famiglie virtuose o tendenti al virtuoso ce ne sono e ce ne sono milioni e sono straordinariamente utili, sono talmente utili che coloro che quando le statistiche cominciano a sancire che il numero si sta abbassando e stanno diventando poche, quegli stessi soggetti che hanno fatto il possibile per farne diminuire il numero poi ci propongono le soluzioni più fantasiose per alzare il numero delle famiglie e le soluzioni sono due. Le importiamo dall'estero, le famiglie, è un tema sulle quale bisogna riflettere con saggezza e con carità, ma è un tema per cui in mancanza di formazione di famiglie locali, noi con fenomeni di ricongiungimento familiare estremo eccetera 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 finiamo poi per ricostruire quel modello familiare perché il Ministero del Lavoro ha pubblicato l'anno scorso una statistica in cui per esempio il 69% delle famiglie egiziane italiane interrogate sul perché qualcuno dei suoi membri non lavora, la risposta è la produzione, l'allevamento è la cura dei figli che in fondo almeno gli egiziani questo ce l'hanno assolutamente chiaro. Quindi importiamo famiglie oppure ne creiamo di nuove, artificiali, colorate, arcobaleno, nuovi modelli, dalle mie parti si dice di tutte le tinte. Ecco, proprio perché il modello di tradizione familiare viene completamente trascurato e invece compito della buona politica è difendere le famiglie normali esistenti e favorirne la nascita di nuove. Viva Dio, se la famiglia è tutto questo, la famiglia è la speranza dei giovani e i giovani sono le speranze delle nazioni, quindi bisogna aiutare evidentemente i giovani a formarsi una famiglia con meccanismi di ordine materiale ma anche con meccanismi di ordine sociale e culturale. Il modello di famiglia è completamente sparito dalla proposta educativa che noi facciamo i nostri giovani dalla scuola di infanzia fino al master post laurea. In qualche modo la proposta, non l'imposizione, la proposta di questo modello deve essere reinserita nel quadro di quello che i giovani sentono dalla dimensione pubblica della nostra nazione. E concludendo faccio qualche riflessione con voi sulla terza domanda, ma la famiglia è un soggetto politico primario e virtuoso, la buona politica deve impegnarsi a difenderla, dice ma perché c'è una parte così rilevante di cattiva politica che non è contro un certo modello di famiglia, perché quello lo capirei. Cioè è una posizione politica diversa dalla mia, se il tentativo fosse di ridurre la famiglia a un fatto morale, religioso, privato, eccetera, sarebbe la tomba, non sarei d'accordo. Personalmente mi opporrei fino alla morte, ma è una soluzione politica. Ma gli episodi di gioia, di esultanza, di vittoria calcistica, che abbiamo visto in certe elite sedicenti, illuminate e progressiste, dopo l'approvazione della Cirinna, non mi si spiegano con una vittoria politica. C'era una gioia tale, io vi confesso che faccio lunghi tratti in macchina, in macchina, spesso sento radio radicale, la stessa passione per la morte che vediamo nell'annunciare in maniera esaltativa le statistiche dell'aborto. Quest'anno ne abbiamo fatti 300.000, 50.000 più della nostra. Oh, ma comunque vada, parliamo di problemi. Libero, non libero, pro-life, lasciamo stare, ma comunque... Questa esultanza ha un furor ideologico. Ed è questa la ragione più profonda. Perché? Tante sono le risposte. Io però quest'oggi mi permetto di proporvene una che, ripeto, fra le tante e le tante altre giuste che altri sapranno dare. Senza scadere nel complottismo, che è un genere mentale che non mi appartiene, io posso facilmente immaginare, ma posso io perché non ci vuole un genio, che quelle elite ideologiche globaliste, anti-identitarie, anti-cristiane che animano i cosiddetti poteri forti, che in qualche modo erano quelle elite che a livello economico erano, nella loro azione erano identificate prima dal professore Ettore Gotti Tedeschi, questo genere di elite e ideologiche che anima questo genere di poteri, preferisca avere davanti a sé un corpo sociale frammentato, corriandolarizzato, piuttosto che un corpo sociale cosciente dei propri bisogni e quindi dei propri diritti, desideroso di trasmettere ai posteri la propria ricchezza, in qualche modo reattivo, non ci vuole un genio, preferiscono la società liquida di corriandoli che vi nuotano dentro. Ebbene, qui veramente concludo su questa immagine del corriandolo perché è essenziale. Vedete, voi avete presente un corriandolo, su di un corriandolo al massimo potete scrivere una lettera dell'alfabeto, non di più, di sicuro non un concetto. Se voi prendete due, tre, quattro corriandoli e le unite insieme, cioè fate una famiglia di corriandoli, potete già scriverci una parola, che magari è una parola importante, libertà, fede, tradizione, cultura, identità, il nome della patria. Se voi prendete un insieme di queste striscioline e le mettete insieme, cioè fate una società basata sulla famiglia e sui corpi intermedi, avrei potuto fare quasi lo stesso discorso sulle casse di risparmio, non è tanto differente, ma prendete una società fatta di famiglia e di corpi intermedi, di tante striscioline e le mettete insieme e fate un foglio. E sul foglio ci scrivete una storia, che magari è la storia della nostra nazione, del nostro popolo, quello che non va fatto votare, perché quando vota quei fogli lì legge. Perché poi il referendum sulla Brexit è l'ultimo capitolo di una lunga storia. Decine di volte, per esempio, nella storia recente americana il popolo interrogato si è espresso a favore di un concetto di famiglia basata su maschio e femmina, cioè di un concetto di famiglia, e poi la Corte dello Stato, la Corte Suprema, la Commissione e la Commissione, i cittadini non capiscono, non capiscono e quindi noi facciamo in un altro modo. Ebbene, su questo foglio noi possiamo scrivere la storia della nostra identità. Ecco, secondo me, chi ci vuole coriandoli fluttuanti, una società liquida, esattamente questo vuole impedirci di fare. Scrivere la nostra storia, impedirci di scrivere la nostra storia, per non correre il rischio che un giorno qualcuno la legga, la ritrovi, ne provi una nostalgia e con le nostre vite provi a rifare di nuovo una storia come quella che abbiamo scritto. Grazie mille e...